2,3 milioni di euro e quanto restituito ai cittadini piemontesi nel 2020 grazie alle conciliazioni e definizioni delle controversie condotte dal Corecom Piemonte. Le istanze di contenzioso ricevute tramite concilia web sono state 8.769, 822 invece le domande pervenute per l'attivazione del servizio sospeso di queste 458 richieste sono state soddisfatte con la riattivazione spontanea da parte dell'operatore. Scende a 42 giorni il tempo medio di chiusura del procedimento. Tanti gli ambiti in cui il Corecom ha ampliato la sua attività, rapporto tra media e minori, cyberbullismo, monitoraggio delle trasmissioni tv locali, vigilanza sui sondaggi delle testate locali, vigilanza sugli impianti radio televisivi, tutela dell'ambiente della salute, segnalerai, gestione della domanda per accesso radio televisivo e vigilanza delle trasmissioni per un totale di 83 domande presentate. È andata molto bene, abbiamo gestito quest'anno 8.700 pratiche che è un livello altissimo, siamo già ai record nazionali, quindi il nostro Corecom è certamente super performante. Abbiamo restituito oltre 2.300.000 euro agli utenti piemontesi con un grado di soddisfazione elevatissimo, abbiamo raggiunto l'86% di soddisfazione, quindi è certamente una cifra ragguardevole. E poi abbiamo diminuito i tempi di attesa da parte dell'utenza. Tutta la tematica relativa al contrasto di fenomeni preoccupanti come il cyberbullismo è una tematica aperta. C'è questo tavolo interistituzionale preseduto dal Corecom che ha promosso un'importante iniziativa, proprio volta a denucleare gli stilemi fondamentali di questo fenomeno, per cui questa ricerca adesso verrà svolta negli istituti superiori. I minori debbono essere tutelati, è vero che sono nativi digitali, ma è vero che altresì che per la loro giovane età debbono essere accompagnati.